Primo Consiglio Comunale oggi all'emiciclo, cerimonia di insediamento con l'elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti del Consiglio e il giuramento del Sindaco riconfermato Pierluigi Biondi, Presidente del Consiglio alla seconda votazione all'unanimità, Roberto Sant'Angelo, votato pure dall'opposizione, Vice, Daniele Ferelle e Manuela Iorio. Per le deleghe e gli assessori il Sindaco si è riservato di proclamare la comunicazione dettagliata tra qualche giorno, ma ormai i giochi sono fatti. L'ex Presidente del Consiglio, Roberto Tinari, potrebbe avere la ricostruzione privata che sarebbe scorporata dai compiti di Vito Colonna, che avrà opere pubblica, patrimonio, lavori pubblici e sport. Raffaele Daniele resterà vice sindaco, dovrebbe riavere le vecchie deleghe, tra cui il commercio. All'ambiente resterà Fabrizio Taranta, l'altro leghista, Francesco De Santis, dovrebbe avere politiche urbanistiche, edilizia, rapporti tra giunta e consiglio. A Manuela Torsini, sociale e diritto allo studio. A Ersiglia Lancia dovrebbe andare la mobilità. Laura Cucchiarella potrebbe avere le deleghe dell'Aquiglio, cioè il turismo, e l'assessore esterno, Paola Giuliani, dovrebbe prendere invece quelle della Bergamotto, cioè partecipate e altro. In virtù delle caselle assegnate per la giunta, entrano altri consiglieri in consiglio. Americo Di Benedetto lascia il posto e le aserpetti. Abbiamo la consapevolezza del consenso che ci hanno attribuito gli aquilani. Questo, al di là di un pizzico di sobrio orgoglio, significa tanta responsabilità, molto lavoro. Esigerò in questo quinquennio che gli assessori siano costantemente sul pezzo, come si suol dire. Chiederò al consiglio di accompagnare l'organo esecutivo nella programmazione, nelle scelte strategiche, anche nella puntualizzazione delle cose che non vanno, perché i prossimi cinque anni saranno, credo, davvero decisivi per l'Aquila. Le deleghe vanno definite con precisione, non devono esserci sovrapposizioni tra settori e quindi bisogna fare un lavoro puntuale. Detto ciò, la giunta naturalmente sta già lavorando, gli uffici stanno già lavorando, i programmi continuano ad andare avanti. Non è mancata la vena polemica del primo giorno. Da parte del gruppo l'Aquila al centro con il consigliere Daniele D'Angelo. Il gruppo ha rifiutato il posto in giunta perché si è sentito poco considerato, come RT8 ha documentato nei giorni scorsi con un'intervista al medico Flammini. Il sindaco avrebbe voluto riempirlo con una quota rosa. D'Angelo ha detto invece che loro non faranno imboscate, ma valuteranno di volta in volta l'operato del sindaco e della giunta.